Rigenerazione e riqualificazione urbana dell'area ex MCM. La Giunta Ferraioli approva e delibera la proposta di piano urbanistico attuativo, il PUA, dell'area ex MCM di Corso Vittorio Emanuele. Presto l'area dovrebbe essere nuovamente animata da ruspe ed escavatori che daranno il via a un epocale cambiamento. Il PUA darà dunque il via al completo cambiamento urbano dell'area dell'ex opificio delle storiche codoniere. Sarà uno dei più grandi processi di rigenerazione urbana degli ultimi decenni. Il PUA è stato presentato dalla ditta AR Industrie Alimentari SPA che nell'insieme non prevede solo un massiccio intervento edilizio nel nuovo perimetro urbano. Nell'ambito delle previsioni di piano urbanistico comunale quest'area è stata destinata ad accogliere un piano urbanistico attuativo che prevede attività residenziali e di servizio complementare alle attività e quindi a servizio dell'intero territorio. Quindi una previsione di piano urbanistico comunale che praticamente è giunta a compimento attraverso l'approvazione del PUA che capita circa sei mesi di distanza dall'adozione avvenuta in giunta alla quale poi è seguita la procedura di osservazioni da parte dei soggetti che avevano intenzione a proporre osservazioni e quindi alla fine alla definitiva delibera di approvazione. Chiudendo così un capitolo per quello che riguarda la previsione delle attività da porre in essere in questa area che ormai potrei dire che è quasi trentennale. Adesso è il momento di partenza da parte del proprietario dell'area per la realizzazione degli interventi previsti. Noi siamo ad attendere che questo accada perché voglio ricordare a tutti coloro i quali hanno espresso per prestità sulla bontà dell'iniziativa che a fronte si dei 129 alloggi che dovranno realizzare. 18 alloggi saranno di proprietà del comune e saranno destinati a diritto residenziale sociale. Ci sarà la realizzazione di una sala che ospiterà un cinema, una sala teatro da 200 posti. Il bocciotromo che esiste qui verrà demolito e verrà ricostruito ex novo. 14 mila metri quadrati di verde attrezzato. Alcuni di questi archi verranno restaurati come abbiamo concertato con la sovrintendenza per utilizzarlo a modo di piazzo coperto. Si recupereranno delle aree da destinare ad attività museali, insomma parcheggi e tutto quello che è previsto al di là della previsione strettamente urbanistica di servizio all'intervento. Quindi sono tutte, le potrei definire senza tema di essere smentito delle liberalità che l'amministrazione comunale ha chiesto all'operatore economico proprietario dell'area per poter fare l'intervento. E quindi al di là, oltre agli oneri di urbanizzazione, oltre quindi a tutto quello che prevede la legge, parcheggi, strade, verde, per questo tipo di interventi è stato chiesto ed ottenuto quello che ho detto prima e credo che questo sia un risultato che potrà fare del bene a tutta la città. Ferraioli si sofferma anche sui tempi di attuazione della delibera. La legge prevede che un piano urbanistico attuativo si esplichi in dieci anni, quindi ovviamente è un'attività molto complessa, non è un solo edificio, quindi è giusto che ci sia un tempo sufficiente per la realizzazione degli interventi e anche per distribuire gli interventi nel tempo, perché quello che ho detto richiede la realizzazione, richiede tempo e quindi io spero che una volta conclusi i dettagli degli accordi necessari per la sottoscrizione della Convenzione, dalla quale poi si parte il vero e proprio accordo reale tra l'operatore economico e l'amministrazione, si faccia quanto prima possibile. Credo che qualche mese passerà per ovvi motivi, diciamo, di completamento di tutta un'altra serie di procedure correlate alla realizzazione dell'intervento stesso.